ecco ecco ragazzi faccio la recensione delle palle di mozzard sembra una risata ma c'è una pallina che si chiama palla di mozzard e praticamente vi dico questo cioccolatino che è buonissimo faccio una piccola recensione sono qui per fare dietro dietro all'albito una bella recensione partiamo subito il cioccolato viene da vien quindi ha fatto un lungo viaggio e in questo viaggio i bagagli sicuramente si saranno sciolti che cioccolato in estate sicuramente si scioglierà però siamo in inverno e quello il trabocchetto veramente queste le palle di mozzard e sono state fatte a salisburgo e faccio una recensione da 1 a 5 io dico 5 stelle perché veramente mi è piaciuto tutto in queste palline di mozzard il cioccolato era croccante era tutto buono finalmente mi sono mangiato un cioccolato degno di nota era bello questo mi sono divertito tanto grazie mozzard mi hai fatto godere come un riccio grazie veramente ciao insieme al canale attivate la gambanella ciao